Sì, lo è, ma non siamo ai tempi della scuola, non puoi fare cose come queste. L'ho fatto, l'ho fatto, e i mari sono ancora lì e il cielo non è caduto. Poco ci manca, Walcott sta venendo qui con un avvocato da mille dollari l'ora. Se gli farai delle scuse formali, sorvolerà sull'intera faccenda. Fammi pensare. No. Vorresti essere ragionevole per una volta. Un momento. Beh? Stavo giusto pensando che sorvolerà sull'intera faccenda in ogni caso. Davvero? Te lo garantisco, è un vile narcisista, è questione di immagine. E tutta questa faccenda lo fa apparire meschino e stupido. Jane, perdonami, ma hai spuntato un caso importante. Come va, Ania? È ancora per molto. Ti prego, Jane, è in trance, vero? Più che altro lo descriverei come un profondo stato di rilassamento. Ho capito, l'hai ipnotizzato. Stavo facendo un favore. Che forza. Ci sai fare, eh? Sì, me la cavo. Ah, davvero? In guardia. Ah! Ti ha infizzato! Mi arrendo! Pietà! Pietà! Una pulsella d'Artagnan. Alla prossima. Ciao. Signor Jane. Grazie. Si figuri, è stato un piacere. Mi raccomando, eh? In bocca al lupo. Ciao. Un minuto e li avrei mancati. Odio quando la gente ti ringrazia. Perché? Fai il cavaliere solitario. Chi era quell'uomo mascherato? Non ho fatto in tempo a ringraziarlo. Esatto. Spara! Tira fuori la pistola e spara! Guardiamocene! Non c'è tempo, sta per esplodere! Jane, andiamo via, forza! Andiamocene, Jane, svento! Tu sei il prossimo. Jane, allontanati! Sta per esplodere! Jane, vieni via, maneggizione, corri! Vieni! Jane, stai bene? Sì, ok. Sto bene. Chiamo l'ambulanza. Venite, ci serve aiuto. No, niente ambulanza, ho qualcosa negli occhi. Non ci vedo. Non ci vedo! Signor Jane, il suo stato è temporaneo. La vista le tornerà e riprenderà a lavorare, ma servono tempo e pazienza. Il tempo ce l'ho, ma la pazienza l'ho persa da un po'. È vivo. Apprezzi questo. Lo faccio, mi creda, lo faccio. Ora devo andare, ripasserò più tardi. La ringrazio. Farò di peggio se non smetti di trattare male chi cerca di aiutarti. Mi hai dato un pizzico. Ti rimetterai, Jane? Sì, probabilmente. Troveremo il responsabile. Bene. Per favore, non guardatevi così. Così come? Non puoi vedere. Posso percepirlo, percepisco la vostra pietà. Ti prego, smettila. Torniamo.